Simone Cametti, classe 82, vivo e lavoro a Roma, in questo momento sono nel mio studio, e piove. Sono finalista al Talent Prize con un'opera dal titolo 4500 gradi Kelvin e da un'installazione luminosa. Il titolo prende in esame la nostra definizione di luce solare, quindi 4500 gradi Kelvin, solitamente, più o meno poi dipende da che parte del mondo, è la luce che cade a mezzogiorno. Il lavoro è strutturato con 24 lampade a catodo freddo, della misura di 2,5 metri, 12 reattori e cablaggio vario. Vanno a formare queste 24 lampade un cono di luce con un diametro al soffitto di un metro, più o meno, che va a chiudersi fino a 30 centimetri. Poi da questi 30 centimetri esce tutto il cablaggio. Il lavoro nasce principalmente per due esigenze. La prima è il voler ridare forza ed energia a degli impianti luminosi abbandonati all'interno di spazi abbandonati. Il secondo motivo invece nasce per produrre la mia stessa luce all'interno di una mostra. Quindi è stata presentata questa lampada, questa installazione, è stata presentata all'interno della Galleria Francesca Antonini Arte Contemporanea, qui a Roma, nel 2020 a marzo, ed era l'unica fonte di luce di tutta la mostra. Il lavoro è nato prima, naturalmente, è stato quindi reperito all'interno di uno spazio abbandonato, il materiale, è stato ricostruito e ristrutturato nel mio studio, posizionato al centro della stanza, acceso e da quella luce ho prodotto la mostra dentro lo studio per poi ripresentarla all'interno della Galleria. Grazie a tutti!